Allora tutti d'accordo sulla strategia B A mio parere è meglio la A, più originale Schiaccieremo la concorrenza Se non ci schiacciano prima loro Bene, prendiamo la strategia B Per me è un Aperol Aperol? Aperol? Sì, mi piace Anch'io bevo Aperol Un Aperol! Colore allegro, sapore aperto E quella giusta nota alcolica Aperol, allegro, aperto, aperitivo Allora giovanotto, alla A La